Lei come si informa? Attraverso giornali no, perché non li leggo, però attraverso trasmissioni televisive, quindi telegiornali o altre trasmissioni. Tramite internet in questo momento, saltuariamente giornali, anche spesso telegiornali. Segue il TGL di Telelibertà? Sì, alle 7.30. Tutti i giorni lo vediamo. Quando riesco molto volentieri. Le piace? Beh, direi sì, abbastanza. A volte è un po' ripetitivo. Mi piace perché parla delle notizie riguardanti la mia città e la mia provincia. Lo segue dall'inizio alla fine? Sì, sì. Mi piacciono diverse interviste che vengono fatte. Soprattutto i primi minuti, diciamo i primi 10 minuti. Che cosa cambierebbe dal TGL? Forse alcune informazioni un po' banali, tipo, non so, se è fatto male il bambino, oppure se è fatto male l'omino che ha attraversato la strada. Niente. Secondo lei che cosa manca? Problemi anche finanziari, suggerimenti, come affrontare qualche problema. Ho fatto dei giovani che non trovano lavoro. Più notizie sportive. Che cosa toglierebbe dal TGL? Togliere proprio, no, forse soltanto abbreviarlo in alcune cose. Cambiamo la scenografia, rendiamola un po' più moderna. Grazie a tutti. Grazie a tutti.